E' stata rinviata di 24 ore la partenza degli ucraini dalle strutture ricettive del Terramano, che da alcuni giorni avevano deciso di intraprendere una protesta per continuare a rimanere negli hotelli che li ospitano da oltre sei mesi. Gli ucraini ad Alba devono firmare il documento di trasferimento per poi fare i bagagli e domani essere trasferiti in Campania, dove però non vogliono assolutamente andare. Una condizione molto delicata su cui è intervenuto il presidente di Asso Turismo, Confesercente Abruzzo, Gianluca Grimi. E' una questione che non dipende direttamente da noi, hanno manifestato la volontà di rimanere in Abruzzo ed è sostanzialmente giusto che vengano inseriti in un percorso di accoglienza che è sostanzialmente diverso dalla prima accoglienza. Prima accoglienza per la quale ringrazio veramente di tutto cuore gli operatori abruzzesi che hanno dimostrato, oltre a cuore, grande capacità come sanno fare in questi casi. Ovvio il periodo è cambiato, si parla di circa 10.000 persone, queste 10.000 persone adesso ci sono bambini che vanno a scuola e anche tante problematiche di questo genere, bisogna giustamente inserirli in un percorso di accoglienza che sia di più lungo periodo e non può essere quello alberghiero sostanzialmente. Gli ucraini non possono più restare nelle strutture turistiche abruzzesi perché è scaduta la convenzione con la regione, quindi davanti a loro hanno due scenari, tornare in patria dove i bombardamenti proseguono senza sosta oppure migrare nuovamente. Ci sono dei motivi oggettivi per cui potrebbe essere opportuno lasciare queste persone negli alberghi per qualche settimana ancora, però è una valutazione che deve fare oggettivamente la protezione civile con la regione, non spetta a noi. Noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, anche umanamente tra l'altro, per cui ci sono dei legami umani, comprendo i bambini che devono andare a scuola, comprendo le famiglie che devono cambiare regione in questo momento, però la legislazione è quella, noi siamo a disposizione per fare quello che deciderà la regione nella protezione civile, sempre avendo come stella polare il bene di queste persone che sono state accolte. Probabilmente molti rimarranno in Abruzzo, devo dire.